Vorrei sentire l'intervento del prossimo nostro cittadino dentro le istituzioni che ci parlerà poi dopo del governo dell'Inciucio. Andiamo dalla regia con il prossimo video di Riccardo. Secondo noi, tutto quello che oggi si prospetta agli italiani nasce da quella famosa frase lanciata da Luciano Violante Possiamo ritornare dall'inizio, regia, senza problemi. Ritorniamo dall'inizio del video, facciamo pausa perché non si sono sentite le prime parole. Senza problemi, non vi preoccupate lì dentro, l'ho chiamato io perché sennò non si capiva. Questo che oggi si prospetta agli italiani nasce da quella famosa frase lo sa lui e lo sa l'onorevole Gianni Letta pronunciata da Luciano Violante durante un discorso alla Camera nel quale afferma di aver garantito dal 1994 le televisioni di Silvio Berlusconi e di conseguenza di tutti i suoi interessi. Vogliamo dire a tutti voi e agli italiani e nonne che ci stanno ascoltando che voteremo favorevolmente quei provvedimenti che riterremo utili per il bene comune quelli di irreale cambiamento per il resto faremo un'opposizione seria, costruttiva, propositiva il nostro non è un no a priori ma un no frutto di conoscenza, di informazioni un no di chi non vuole accontentarsi del meno peggio di chi non può e non vuole chiudere gli occhi davanti a questo inciucio di chi non vuole cedere allo squallido compromesso che chiede voti in cambio di posti di lavoro di concessioni, di permessi. Vi ricordate cosa dicevo prima delle facce normali, delle facce pulite? Ce l'abbiamo qui, Riccardo Nuti! Grazie a tutti! Grazie a tutti, sono Riccardo Nuti, vicepresidente del Movimento 5 Stelle del gruppo alla Camera dei Deputati. Vi parlerò di alcuni provvedimenti che l'agenda di questo governo di questa maggioranza dell'inciucio ha detto in questi anni di voler fare e anche ultimamente. L'ultima è l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti un bellissimo slogan, uno dei tanti che vengono copiati dal Movimento 5 Stelle ma il problema qual è? Che intanto non ci dicono come vogliono abolire il finanziamento pubblico ai partiti lo chiamano abolizione del finanziamento pubblico ai partiti Quagliarello ha scritto che l'attuale legge del finanziamento pubblico ai partiti quando grazie al referendum di tutti i cittadini italiani il finanziamento pubblico ai partiti è stato abolito quindi è assurdo che venga già chiamato finanziamento pubblico ai partiti cambieranno, cambieranno nome e lo continuano a chiamare rimborso cercheranno di reintrodurre i soldi nella politica perché loro senza i soldi sono niente purtroppo perché loro senza i soldi sono niente perché non hanno valori non rispettano i valori e non rispettano le leggi questo governo dell'inciucio che poteva più volte rendere ineleggibile ad esempio e non solo lui, Silvio Berlusconi non l'ha mai voluto fare ed è questo il concetto non è contro Silvio Berlusconi ma è per il rispetto delle leggi ed è quello che in questo paese non accade vi voglio raccontare altri provvedimenti l'abolizione delle province decenni a sentire dell'abolizione delle province è inconcepibile che si vada in televisione e si parli dell'abolizione delle province e ci si candidi nelle province io ho sempre battuto su un concetto la credibilità questa classe politica della maggioranza e della finta opposizione non ha credibilità perché nel momento in cui non riesce ad abolire veramente le province senza creare altri centri di potere e altri centri di costo per continuare con i propri sprechi e occupare le proprie poltrone non è un'opposizione, una classe politica credibile andiamo all'altro argomento che è questo governo dell'inciucio o della pacificazione perché poi devono trovare delle belle parole e quindi da inciucio che magari può essere una parola brutta devono mettere pacificazione un'ennesima presa per il culo onorevole ha detto culo ha detto culo l'ho sentita? anche fondoschiena se volete perché in questo paese funziona così funziona che una parola può assumere vari termini ma nella sostanza se uno ruba non si può dire che è un pezzo di merda se invece dice che prende un rimborso e che magari non gli spetta è già diverso perché funziona così è il continuo perbenismo di questo paese che c'è anche al nostro interno e che dobbiamo eliminare assolutamente in questo paese si parla continuamente di legalità si parla di legalità quando si ricorda l'anniversario della morte di Giovanni Falcone si parla di legalità quando si ricorda della morte di Paolo Borsellino ma quando si viene a scoprire che forse ci sono dei parlamentari che vengono pagati da un minimo di mille euro a un massimo di 5 mila euro dalle lobby delle slot machine e dei tabacchi tutti in silenzio la notizia passa in una notte sotto banco se non per una dichiarazione del presidente del senato Grasso che dice dobbiamo fare il disegno di legge anticorruzione buongiorno direi io a questo punto però aggiungo un'altra cosa che lui sostiene che bisogna regolarizzare l'atteggiamento delle lobby che per ora è nascosto ma quindi anche lui forse sa qualcosa ma facciamo finta che non sa qualcosa e ci sta perché è arrivato giustamente al senato da pochissimo ma noi dobbiamo regolarizzare l'attività delle lobby che influenzano i parlamentari o dobbiamo buttare fuori le lobby dal Parlamento perché qui secondo me nasce un bivio è come dire c'è la mafia in Parlamento facciamo un esempio e quindi che dobbiamo fare dobbiamo metterci a trattare con la mafia o la dobbiamo buttare fuori dal Parlamento dobbiamo salvare i mafiosi o dobbiamo andare contro i mafiosi e questo è il bivio in cui siamo chiamati però in questo paese dobbiamo trovare sempre il compromesso ma la parola compromesso non è una parola che ti dicono essere negativa per carità il compromesso può essere fatto fra buone idee sicuramente due, tre, cinque modalità diverse ma non può essere fatto fra la mafia o un po' di mafia fra queste due opzioni noi abbiamo sempre scelto no almeno peggio vogliamo il meglio vogliamo la legalità è un altro concetto che purtroppo per loro non è conosciuto loro parlano di una lotta agli sprechi dobbiamo diminuire i costi della politica lo ha detto il Presidente del Consiglio Gianni Letta e l'hanno detto tutti i politici in questi anni però cosa è successo perché voi magari queste informazioni le sentite o le leggete solamente tramite il web questo bruttissimo strumento che sta cercando di dare qualche informazione diversa dalla solita succede che per esempio il PD l'oppositore del PDL il no agli sprechi così come il PDL vota a favore di creare un altro gruppo parlamentare Fratelli d'Italia fatto da nove deputati quando il regolamento prevede che ce ne devono essere almeno 20 però si può andare in deroga se l'ufficio di presidenza vuole anzi se la capigruppo vuole e cosa accade che il PD e il PDL votano a favore così come tutti gli altri partiti l'unico a porsi a questo spreco è stato il Movimento 5 Stelle sapete quanto c'è costato questo nuovo gruppo parlamentare una cifra che sicuramente non cambierà il paese però hanno buttato nel cesso 400 mila euro poi chiediamo va bene signori vogliamo un attimino diminuire i costi della politica ma almeno rendicontiamo le spese le facciamo rendicontare a tutti i parlamentari no, non si può fare è troppo difficile è troppo complesso è troppo oneroso perché il problema per loro è perdere un po' di tempo o dedicare qualche ora del personale per la rendicontazione non capiscono che ha più valore la credibilità della classe politica e quindi del paese che non avendo credibilità perde miliardi di euro l'anno perché le aziende in un paese che non ha credibilità non investono e se questo paese non ha credibilità è soprattutto per questa classe politica che continua a prendere in giro tutti i cittadini andiamo all'altra grande presa in giro la modifica della Costituzione ma chi lo dovrebbe modificare la Costituzione? queste persone che finora non hanno fatto rispettare neanche le leggi che loro stessi hanno fatto chi lo dovrebbe fare? Buttiglione che parlava di rinnovamento ma stiamo scherzando ma è allucinante una cosa del genere non si può sentire che questa classe politica vuole modificare la Costituzione a quel punto propongono o il semipresidenzialismo e qui a che era favorevole solo Berlusconi incredibilmente ultimamente si è dichiarato favorevole anche il PD o altrimenti il Parlamento razionalizzato un'altra parola incredibile il Parlamento razionalizzato noi non vogliamo un Parlamento razionalizzato noi vogliamo prima di tutto un Parlamento pulito è soprattutto funzionante vi do la notizia che forse è sfuggita ovviamente abbiamo presentato la proposta di legge Parlamento pulito massimo due mandati massimo scusatemi la preferenza diretta è l'incandidabilità di coloro che sono stati condannati almeno in via definitiva questa è la salvaguardia di una legge elettorale porcata che hanno fatto loro non cambiare il Porcellum senza sapere dove andare hanno continuato ad avere due maggioranze diverse fra Senato e Camera per avere l'ingovernabilità sono loro che vogliono l'ingovernabilità non che la colpa è del Movimento 5 Stelle che non si allea con coloro che sono responsabili del crollo dei Montepaschi di Siena ma non si possono sentire certe cose ma poi il problema che dobbiamo porci noi italiani è ma il vero cambiamento il vero ostacolo al miglioramento del paese è lo strumento della Costituzione che non va o chi all'interno del Parlamento non lo sa utilizzare chi non lo vuole far rispettare un Parlamento che in questi anni è sempre stato totalmente superato a colpi di fiducia e decreti legge questo Parlamento non si è mai far voluto funzionare e chi non l'ha voluto far funzionare questa classe politica e soprattutto questa finta opposizione perché fino all'altra volta quando Quaglierello è venuto a parlare delle proposte di riforme davanti a queste proposte di riforme di finto cambiamento per esempio Sell ha detto io non mi sento opposizione ma come non ti senti opposizione cioè ti presentano una serie di riforme di prese in giro e poi ti dicono non mi sento opposizione addirittura riescono a parlare di democrazia diretta loro come riforme quando sono i primi che hanno buttato nel cesto 350.000 firme di Parlamento pulito e allora diciamo noi che questi non sono dei ladri di programma perché i ladri di programma li possiamo anche accettare abbiamo sempre detto come avete visto nel video che le buone idee noi le votiamo a favore non ci interessa se le votiamo a favore insieme al PD al PD alla scelta civica non ci interessa ma quando diventano finti ladri di programma allora ci incazziamo ci incazziamo perché le leggi le proposte di legge devono essere presentate in maniera corretta non si può abolire il finanziamento pubblico ai partiti per reintrodurla con un'altra presa in giro allora noi l'ennesima dimostrazione l'avremo quando ci sarà l'inigibilità di Berlusconi che il PD probabilmente non vorrà votare come noi e soprattutto quando ora e vi annuncio presenteremo una seria legge nei prossimi giorni sul conflitto di interessi che abbia delle vere sanzioni e che questo paese non ha e ha pagato miliardi di euro per colpa del conflitto di interessi e dell'anticorruzione concluda onorevole Luti grazie a tutti concluda onorevole Luti perché quando sono grazie Ricky stavo scherzando grazie a tutti grazie a tutti